Questa è la storia dell'antica contea di Guazzar, un posto tranquillo, immerso nelle tradizioni, dove la vita procede lenta. I buoi ruminano felici in attesa del macello. Le pecorelle pascolano e producono. Le famiglie pascolano e producono. E tutto si muove lento e silenzioso. Quasi sempre. Solo un leggero brusito sottofondo. Pronto è questa qui età, Renne. I due rumorosi personaggi in questione sono Boricu e Lusicu Diana, noti anche come i cugini Duke. Uno scucao, l'altro scucao. Tu soffi l'uso da mamma buona. Beh, i tipici bravi ragazzi del luogo. Dediti alle loro attività preferite. Passo del hotel aria aperta. Agricoltura. Shopping. Sarbi. Chocke. 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 Eccoli qua. Questi sono vostra due sconfittura di Boricò e Lusico Diù. Ma cosa avremmo combinato stavolta? Tutto a posto? Eh, va bene! Ascolta, dai, come la stima? Che è la tua bivicetta? Su! Quali fatti costituisciare? Mi siano fatte delle sue cose a posto a macchina. Io sono dicendo qui! Io sono dicendo qui! Mo' ehi, sei tu! Tu muoversi che qui, però, quello di O.S.A. Ma che sei un bivicetto, dai, andate. Ma poi, se non ti faccio un bivicetto, ti faccio un bivicetto. Siamo poi, ti faccio un bivicetto sul locale. Vieni, va freddo! Allora, faccio! Vieni, vieni, vieni! E' c***o! Vieni, 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 vieni! Ci faccio di O.S.A. Mancai da frecciare! Ma*****a, dai! E' c***o! Guardami calmo! Guardami calmo! Guardami calmo! Guardami calmo, ti scopri ancora! E' c***o! E' c***o! E' c***o! Ma che? Ma non tu ci vuoi! E' guarda, scusa, arrangio i sindi! No, guardai i sindi! Sì, i sindi! Ma che non lo raffa e saprizione! Eh, si doveva prendere la raffa e saprizione a tutti, ma ora, che miseria! Tu devi dare questa roccia, devi andare su sale! E' questo bello! Questo bello ci rienti! Ma che vuoi la c***o, Dante? Mi sia, va bene! E' da so' vieno, bigli e dieci, da... Tocca l'ho, te lo so, bello se vuoi! C***o, faccio! C***o! C***o! C***o... C***o! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E tanti se fra dopo, te ti scelte i file subiti now. Cosa dovrei fare? Ti dà una idea quando tu vai e commenti dove vai. Avrei diventato un'esercizio carabinieri. Perché è carabinieri? Poi il tasto del telefono è occupato. Sanno in vacanza e ti appunao del nostro... Va bene. Sicuro? Sicuro che comprendi? Va bene. Nel mappo dovrai fare un video. Chi era? Ti sei figlio? E noi con ti giocheri? Nicchi non c'è. E noi è. Nicchi, è un'esercizio amico. Te so serio? Voi telefonare, mattina mi vieni pronto. E non c'era i carabinieri. No, madonna santissima, ti è capitato? Non riuscire da me. No, ma rendo, muore. Non è neanche lavoro. Ma che c'è il Nicchi, la donna santissima? Adesso, adesso gli faccio subito, subito uno squillo. Mamma mia. Chi era? Chi era? Non lo so. E non me lo chiedi chi era? No, mi ha detto di non fare domande, di aspettare l'ho chiamata e di non chiamare i carabinieri. Ma non fai di di Aici, non fai di noi, come ti non ti so. Avvisate, i commenti vuoi di avvisate. Avvisate, scusa, Cancuna, Cancuna, devo avvisare. Non riuscire, provate di noi, se non sui piedi. Non trovo neanche i numeri adesso. Nicchi, dove sei? Ma in Guazzard, subito, vorrei che si riavrisca. Il giorno dopo, non si parla d'altro. Ciao, mamma. Oh, ascoltai, ma che cosa si sente? Che succede? Magia. Ma Franconi. Ma con magia, noi siamo in mezzo. Adesso succede, ma qualcosa, ma. Non sono rivoluzione, non c'è, non pittà, non pittà, non pittà, non pittà, non pittà, non pittà. E' tutto a noi. Oh, ascoltai, non pittà. Tu, Angelo, non la sentiamo. Senti te, no? Senti, questa macchina è bruciata, se già hai. Ma... Eh, non devi dire che questa macchina è bruciata, non devi dire che questa cosa pesante. Ah, buono. S'allocato. Eh, con felocato, eh. Non ti facciamo, sammai. Eh, non credo. Senti te, sai che stranfa, c'è? Ho fatto una matita da uso. Lo faccio. Oh, adesso. Eh, devo sosporire. Eh, ti hanno furato un... Eh, eh, hanno furato delle cose. E non puoi dire se te che hanno furato. È così. No, non questo è un battaglio. E' un battaglio. E' pare che ci dà un battaglio su 20 sparrate. Oh, battaglio. Ma il battaglio è ancora buono? No. Ma che ti dà un battaglio su 20 sparrate? E' un battaglio. E' un battaglio. Dovrete, e' morando a crociare. Su questo è abituato a fura, ma non ti serve a furere. Vedete. E' un battaglio. 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 Questa me la dovete spiegare. Se c'è una pecorella smarrita. Se c'è una pecorella smarrita. Mi intendi? Lusico? No, siamo buonico. Ah, ciao Boricco. Ma in te in tedesca è vero? No, è vero. Non ti voglio fare anche magia. Non ti senti scocchi di gendasi. E' certo. Mi sono le fantasi. Ma vuoi crei? Dai, andami. Dai, andami. Intanto, sul luogo del furto, arriva quel genio della gente a rozzo. Qui agente a rozzo. Sono sulla scena del furto. Comincio le ricerche. Andiamo. Vieni qua. Andiamo. Vieni qua. 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 Non lo so. Andiamo. Vieni. Andiamo. Là. Ma te questo caffetto ti conosci? Tu ti conosci, sennò? Eh? Questo è il Degucinzu. Eh no, ma questo altro non mi piace. Aiuto. Andiamo. No, no, no! Allo! Vieni. Vieni. Adesso! Andiamo! Andiamo! Mi ragazzi! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.